Abbiamo avuto l'opportunità di essere ospite di Teleton in Web Marco Lichini Accmatt Importante la causa Sto bene Marco Sono così bravo Anziché salvarlo Eccezionale Il fuoco e la goccia dove io mi tufferò Grazie, bravo Ragazzi, tecnici, fate un applauso Veramente eccezionale E quando entro lo saluto Marco, veramente, grazie di quale pensate con voi Grande Marco, bella per te Mandiamo due euro, 45,507 Sennò vi porta male, perché durante questo video Ci sono degli intermezzi con storie di bambini Dategli uno sguardo e poi valutate se mandare o meno Rimanete nel dubbio se arriveranno Se non li mandi sei un bastardo Prendo il posto di Marco Ecco Come andiamo? Come andiamo? Come andiamo a caglia? Ah, voglio a caglia tutta la vita Ho visto Mi sembra un po' veloce Sì, vero? Vuoi che rallento? Io, vabbè, voglio dire Non è che mi va per forza andare fuoco È importante andare Magrissimo L'importante, l'importante, no, è la tecnica La tecnica Ma sì No, già, aspetta Si sapeva che è già arrivato Lo critico No, perché vuoi dire A fare 42 km in un'ora e venti Sono tutti i poni Però io mi cagano Quanti? Un'ora e vinto 42 km Sì Un giorno e venti Un 10 giorni Perché come lì Il prof di Tiger Woods Non gioca come lui Ma cosa succede? Ma ci sono altre persone Prego Si arrabbia, ragazzi Ho anche già il microfono Ma perché mi ignori? Che fai? Ma lui di te non parli Perché non è possibile Se non è una gnocca Lui non mi gara Scusa Io mi son girato un attimo Ma, aspetta Innanzitutto Chi sei tu? Che succede? Ma io sono un po' L'uomo comune L'uomo comune Stefano Oh, un applauso È tecnico Sì Ah, è regia Secondo me sto male No, no, anzi Stai bene Mi chiamano Presidente Non so perché Non ho ancora Capito Di più? Ah, guarda chi c'è Bellissimo Bella Mi sfritta Mi sfritta È una che accorre Vuoi venire là Vai là No, no Io voglio Ma questo si sta A me è il nome Ti ritieni male Che te corri Non metterlo là Ti prego No, ma io tu vieni Aprila Ti concedo Cosa ti succede Qua? Stai facendo Con noi programmi a parte Adesso Ma come? Perché qui ci abbiamo Cosa fai? Io sono Il gobo suo Mi sta Taccata male Quando ho scritto Cosa fai Su una lavagnetta Era per loro Io faccio un assicuratore Guarda sei venuto Il posto tutto Perché callano Tutti di coltello E quindi Non gli assicuriamo Si chiama Rischio Che qualcosa accada Le certezze Non sono assicurato Povero assicuratore Una moglie L'ex moglie Due figlie Una peruviana Ma secondo te Sto male E allora La vita piena E la vita Mi dice Comunicalo Blog Di che blog Che noia Tutte le cose standard Sto leggendo Tutte le loro cose E questo Di qua cosa abbiamo Abbiamo Che abbiamo qua Luca Aspetta Ma tu hai fatto i nomi Non è che Perché hai quella cosa Lì da scrivere E gli occhiali E ti E' diventato il processo Di stasca Lo vuoi fare Baccarella Di tette Che abbiamo di qua Luca Ma però Mettisco il blog Non è il tuo fenomeno Se hai 60 mila Iscritti Ciao A ver Se è la monesta o male V1 Ma sono questo O male Punto net Aspetta Filosofia Di cosa parli In questo blog Parlo che Se la mattina Mi sveglio Gambe, braccia e testa Funzionano Ok Ma secondo te Sto male Sono campione del mondo Mi gioco la partita Senza problemi Non lamentere Come te tutte le mattine Se piove Se piove Se piove Se piove Se nega Se piove Sono stato spazio Non c'è altro 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 Lì devi agire E allora Se non esco male Ma Visto Facciamolo stare male 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 Eh Veloce Mi continui a dire Ah Veloce vuole valizzare Si la nostra Paola vuole vederti cadere Io non vorrei perdere testo No no Allora io ho Io ho diversi impegni C'è da fuori Arriva le stappe bagnate Diversi inutili Due figlie Una dismoglie Una moglie Però Allora ragazzi C'è un defibrillatore fuori? No non lo so Non lo so Perché voi mi lo dovrete perdere Mamma 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 Andiamo a un defibrillatore fuori Ma noi non teniamo niente Si dicono di calmarti Non calmare No di calmare la velocità Non calmarti mai Che è un sistema ordinario E allora si La vita è questo La vita è anche in questi momenti Ma di cosa scrivi il video? No 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 Guarda che bello Fai te La creiamo il video Che bello Di cosa scrivi il video? Ragazzi voi abbiamo caffè voi? Ah Porti Comunque io vi ho visto Vi ho studiato Siete fighissimi Cioè tu sei Franchino vero? Si E tu sei per Paolo Si Per Paolo Che nome Insieme siamo per Paolo Franchino Ma poi lo stiamo bene insieme Comunque ragazzi A parte Il seggio Sì Cioè voi fa adesso Sampano pomeriggio Sì A dire perci Corre la sveglia Corre Fammi correre Fammi sudare Perché c'è gente che sta molto meno bene di noi Fammi sudare Fammi soffrire Fammi soffrire Fammi soffrire E allora Noi 45507 Dobbiamo andare a stessi sms Perché snazzicano Ogni tanto mi dicono La preside Sì Perci due euro Vanno a finire Chissà Mandalo Nel dubbio mandalo Oppure anche C'è il dubbio Il dubbio è una possibilità Che dobbiamo lasciare Manda Due euro Vale il dubbio Perché se no Sei un bastardo Esatto Chiediamoti alla signora Scusa Io non voglio Assolutamente Ecco gente Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Te corri Te corri Rispianna Giusto E te se ne hai mai fatto che corri Proprio perché sei già anche vestita A te c'è solo per correre Allora lei all'inizio mi ha detto Non parlo Devo solo correre Quindi no Tu mi chiedi Non puoi correre Cosa fai nella vita Sono insegnante Cosa Diritto C'è paura di notare Per l'insegnante Che studiato Allora Stavo dicendo Falla parlare diritti Prego Io non ho bisogno di odi E se non ho bisogno Assolutamente delle telecamere A me ne si interessa Ti leggo Ti sentisci Non credo voglio parlare Io ti voglio Non ho bisogno di un mio video Oh io vorrei Che mi giro Non ho troppo Poi Che fai Ma lo se L'insegnante è di diritto No era l'unica materia Che avevo usato Diritto Ma perché l'insegnante Io avevo dieci Diritto 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 No la domandina Ma quelle Non ho mandato io Mi dicono fuori Di mandarti fuori Purtroppo Di contratto Non mi ricordo Dovrei ristudiare Andiamo pensendo Andiamo pensendo E' stato di dici anni Questa sta succedendo di qua Che mettiamo parlando E qua c'è il tuo cordello E allora andiamo via È l'unico modo Ma portalo via Allora ci andiamo via Vediamo un cappello insieme dopo Però questo non è meglio Mi passano Non abbiamo detto Questa è la censura Solitamente E io mi metto di qua Io torno in mezzo Andiamo via insieme Mentre mai Contanto mai Ho capito che se ne va Ah addio Che risale Che risale E poi li possiamo chiedere No parla qui Chiediamoli La cosa Ho visto prima Purtroppo invece qui La distrofia muscolare di Becker Renato qua c'è la nazionale Sei pronto? Sei riscaldato? Che fai? Non li mandiamo 6 euro? Ho arruinato Sta un fuoco Il buon Renato Sta troppo bene Per fargli mandare 2 euro Vediamoci più forte ancora Teniamoci vicino Vediamo un po' se 2 euro meritano Se c'è il dubbio 45507 Ci porti via Ci porti via Restaci nel dubbio Manda 2 euro Eh sì bravo Se no vergognate Tutti i giorni Una vita così Dove sta la mia prospettiva? Manda 2 euro 45507 45507 Se no Fai schifo Secondo te sto male È solo verità Senza la maschera Concetturi su 2 euro Vergognate Ma Brenda Vive nelle Tra le sue carrozzine La ricerca sulle malattie genetiche Dà moglie una mano Non parla Naturalmente Non fa sedito Oh e basta così Manna 2 euro Manna 2 euro Manna 2 euro 45507 E si bravo Te porta male